Siamo solamente al secondo lunedì post albin quindi con la nuova scarsità su bitcoin con ogni blocco che produce o rilascia 3.125 nuove monete e questo effetto ancora non si sta manifestando ancora non si sta vedendo quantomeno a livello di prezzi e di mercato. Ben ritrovati buon lunedì e buon criptomanday come possiamo vedere questa schermata quest'oggi è abbastanza rossa abbiamo diverse situazioni in negativo rispetto a una settimana fa c'è un pochino di preoccupazione soprattutto per il fatto che come vedremo si sono un pochino fermati i flussi sull'etf quindi in particolare i flussi in entrata poi ci sono altre situazioni comunque che stanno un pochino destabilizzando il settore cerchiamo di capire in che situazione ci troviamo come sempre allargando quella che è la finestra temporale. Andando appunto su coin market cap vediamo che innanzitutto il prezzo di btc che ancora non ho menzionato per chi stesse solamente ascoltando è ad oggi di 62.374 dollari per singola moneta con eth a 3.188 con dei ribassi rispetto alla scorsa settimana del meno 5.63% e meno 0.65% rispettivamente parlando con una capitalizzazione di mercato che conta 2.31 trillion una dominance di bitcoin a 53% ed eth al 16.8% Gway che è molto basso tra l'altro vedremo di come Ether in questo periodo è tornato ad inflazionare con un fear and greed index a 57 su 100 quindi in una zona neutrale siamo usciti dall'eufonia siamo usciti dalla parte di avidità quindi quella in verde. questo da una parte è un buon segnale prima o poi doveva accadere non ci sono grandi rialzi non ci sono monete che stanno facendo vedere dei numeri importanti andiamo sulle finestre temporali dove rispetto a sette giorni fa vediamo appunto un meno 5% rispetto ad un mese fa vediamo un meno 10% con un mese comunque di marzo che è stato tra i migliori della storia di bitcoin invece la finestra annuale che fa vedere ancora un più 112% e poi la finestra all time dove comunque l'attuale prezzo non è poi così lontano da quello che è stato il precedente all time high cioè il prezzo più alto per singola moneta nel ciclo precedente ricordo ancora una volta che siamo entrati in un nuovo ciclo siamo nel ciclo dell'alvin che inizia nel 2024 e finirà attorno al 2028 con questa nuova scarsità una scarsità che ha portato bitcoin ad essere addirittura più scarso del loro fisico. prima di analizzare tutto quello che però ci aspetta a livello di notizie di fondamentali andiamo a vedere in analisi tecnica che cosa vuol dire questo ribasso abbiamo un prezzo che come era probabilmente prevedibile avrebbe incontrato e sta riscontrando una resistenza sulla media mobile degli ultimi 50 giorni infatti un paio di volte questo livello ha fatto vedere appunto una resistenza verso l'alto. a questo punto il prezzo è tornato sotto i 63 mila dollari che si trasforma da supporto a resistenza questo ovviamente nel breve adesso l'ulteriore supporto al prezzo è la cifra tonda dei 60 mila dollari quindi ci dovremmo aspettare un prezzo che si muove tra i 60 mila dollari come supporto e come resistenza verso i 67 mila dollari. se dovesse rompere una di questi due livelli verso l'alto verso il basso avremmo una trend potrebbe proseguire con il prezzo anche in modo banale qualcuno potrà pensare è ovvia questa analisi ed è così perché non c'è una questione di andare a complicare troppo la lettura anche perché questo non ci può far prevedere il futuro. è solamente un'idea di come viene posizionato in questo momento di come ci si posiziona in questo momento a livello di mercato e quindi quello che le persone si aspettano dal movimento del prezzo e dalla price action. Intanto però il prezzo medio gli ultimi 200 giorni comunque è andato ad alzarsi continua ad alzarsi in media e si porta a quasi 49 mila dollari sta puntando i 50 mila dollari e questo è un ottimo segnale. come detto più volte dobbiamo considerare sempre che prima o poi queste due medie quella verde quindi il prezzo medio degli ultimi 200 giorni e quella arancione il prezzo medio degli ultimi 50 prima o poi torneranno a incrociarsi. visto che la distanza è molto elevata la distanza tra le due in questo momento questo periodo di lateralizzazione a ribasso era un qualcosa di naturale e probabilmente destinato anche a continuare ancora per un po' vedremo perché poi ogni situazione potrebbe cambiare lo scenario. comunque sia il tutto rispecchiato anche dall'analisi on chain dove le monete su gli exchange centralizzati non sono tornate ma si stanno stabilizzando verso questo livello dell'11.7% di tutto il circolante considerando il fatto che di nuove monete da adesso in poi ne arrivano davvero poche questo è tutto può essere considerata tutta la disponibilità del mercato. quindi in termini numerici parliamo di poco più di 2 milioni di monete 2 milioni 319 mila monete queste sono quelle a disposizione chi volesse comprare oggi poi c'è il mercato OTC ovviamente ma il mercato OTC non va ad influire su quelli che sono i prezzi. il prezzo viene condizionato da questa supply da questo circolante ovviamente se le risorse over the counter finiscono allora a quel punto si torna a domandare qui. al contrario se le risorse over the counter diventano molte cioè di chi ha bitcoin a disposizione e ne vuole vendere tendenzialmente quelle monete tornano qui si vedono da questo grafico e quindi è probabile ci si attende anche un calo nel prezzo in questo momento però non sta avvenendo anzi si è riscontrato comunque un buy the dip da parte di alcune entità proprio quando il flusso sui etf è andato a sgonfiarsi. andiamo a vedere questo solito grafico che prendo da un po' di tempo da adesso che dobbiamo considerare comunque i movimenti sui vari etf vediamo che negli ultimi due giorni della scorsa settimana c'è stato un dato un pochino allarmante perché sono stati innanzitutto due giorni consecutivi in cui ibit che è questo in blu scuro questa candela in blu scuro non si è presentata che cosa vuol dire che su blackrock non sono stati acquistati btc nella giornata di giovedì scorso e di venerdì scorso. in più mentre per quanto riguarda il 24 c'è stato comunque un inflow di 5.6 milioni di dollari su fbtc con però una fuoriuscita di meno 130 milioni di dollari quindi un netto ampiamente negativo nella giornata di venerdì addirittura l'inflow è stato nullo quindi non c'è stato alcun inflow è il primo giorno da quando sono stati lanciati gli etf spot su bitcoin che non arriva nessun bitcoin all'interno di questi etf ma solamente una fuoriuscita un po' da tutti a parte blackrock un po' da tutti gli altri etf con grayscale sempre che domina con un meno 139 milioni su un totale di meno 217 milioni in fuoriuscita e zero in entrata questo ha portato ovviamente questo livello diciamo negativo sul prezzo che però è stato compensato se ci pensiamo il prezzo poteva scendere anche di più rispetto a quello che è stato questo perché c'è stato una sorta di buy the dip che si può vedere da analisi on chain da parte di alcuni portafogli considerati balene o holder di bitcoin di lunga data da quest'altra visuale possiamo vedere la stessa cosa questi sono i milioni di dollari il 24 aprile zero su ebit 5.6 su fidelity con fbtc qualcosa in arc il resto è fuoriuscita meno 130 milioni da grayscale e nel giorno seguente tutti zero e qualche fuoriuscita c'è da preoccuparsi non lo so onestamente non so se c'è da preoccuparsi non so se la spinta su etf sia finita credo sia solamente un momento dove la domanda è destinata invece a tornare su questo strumento serve strano che si fermasse tutto insieme dopo questi mesi soprattutto dopo il mese di marzo di così tanto interesse anche perché come ho detto più volte devono ancora arrivare dei player istituzionali più corposi a iniziare da grandi fondi addirittura si parla di fondi pensionistici in più quella che è la narrativa con cui bitcoin si è fortificato negli anni sembra pronta per tornare molto forte infatti è saltata la prima banca degli stati uniti nel 2024 si tratta di republic first bank che chiude con le sue 32 filiali presente nello stato del new jersey pennsylvania e new york e riaprirà come fullton banks quindi è stata praticamente acquisita da umbrella fullton bank questo ricorda di molto quello che successe un anno fa quando first republic bank che è un'entità separata che era stata acquisita da jp morgan a maggio dello scorso anno dopo che c'erano stati una serie di fallimenti ci ricordiamo signature bank e poi la grande caduta di silicon valley bank e silver gate erano rilevanti perché erano considerate crypto friendly ma non erano solamente crypto friendly erano tra quelle banche con una rilevanza molto importante nel mondo della tecnologia e dello sviluppo dei vari business in silicon valley parliamo di banche comunque enormi dalla gestione abbastanza rilevante soprattutto se paragonate alle banche alla gestione delle banche in europa in ogni caso questo è un ennesimo segnale di come non si possa essere al sicuro con i propri fondi anche se considerate appunto tra virgolette in banca e questo ovviamente sta rialimentando la narrativa bitcoin con la domanda che arriva ma quanti altri casi di fallimento dovremmo vedere prima che le persone inizino a dubitare della loro banca da analisti le buone notizie arrivano proprio da analisi on chain in quanto dopo il inflow negativo visto su etf si è notato comunque un acquisto da parte di portafogli soprattutto nella categoria che piazzano ordini da un milione a 10 milioni di dollari quindi portafogli pesanti e balene con portafogli che holdano dai 1000 ai 10.000 bitcoin che stanno supportando questo livello di prezzo che rimane comunque superiore ai 60.000 dollari questo articolo è stato scritto quando comunque c'era di nuovo un'ascesa verso i 67.000 frenata nel finale della settimana ma comunque sia questo ritmo è stato sostenuto altrimenti il prezzo sarebbe andato ulteriormente a ribasso questi portafogli hanno accumulato 266.000 btc da inizio del 2024 questo secondo dati on chain si traduce nell'1.24 dell'intera per cento dell'intera supply quindi vuol dire che alcune tipologie di portafoglio sono in fomo e stanno accumulando nel periodo che storicamente risulta essere il migliore quello a ridosso di un halving in questo caso pre halving considerando che di bitcoin in questo momento ne sono stati estratti 19.691.678 in questo momento in cui registro ogni 10 minuti ne arrivano circa 3 come abbiamo capito quindi la scalata verso i 20 milioni ormai è abbastanza vicina mancano davvero pochi bitcoin al raggiungimento del totale poi la cosa diventa particolare perché comunque sia adesso vista la scarsità per arrivare a 21 milioni ci vorranno più di 100 anni ma le nuove monete in arrivo sono davvero poche quindi la supply da considerare è praticamente quella che stiamo guardando circa 20 milioni per tutto il mondo e questo effetto scarsità è quello che fa ben sperare in molti soprattutto le balene che abbiamo appena visto che continuano ad accumulare e che stanno sostenendo il prezzo tra l'altro nella lotteria del mining è successo un evento che capita raramente c'è stato un solo miner cioè un'entità che ha minato un blocco da solo senza partecipare in una mining pool quindi senza dividere la reward con tutti gli altri che avevano aggregato l'hash rate, l'hash power portandosi a casa circa 200 mila dollari in BTC è l'equivalente praticamente di vincere la lotteria anche per quanto riguarda una questione statistica infatti con poco più di 120 peta ashes questo miner che a quanto pare in passato minava in una pool e adesso si è messo in proprio non essendo più magari sostenibile in quel modo e tentando la fortuna è riuscito al blocco 841.286 a minare appunto 3.125 BTC se vogliamo nella fortuna è anche stato sfortunato perché pochi blocchi prima solamente un migliaio di blocchi prima avrebbe minato il doppio però meglio che niente anche perché effettivamente è un evento estremamente raro basti pensare che è solamente la 282esima volta che avviene in tutta la storia del Bitcoin e la maggior parte delle volte che avveniva era all'inizio della storia del Bitcoin perché tutti minavano da soli e questo in 841.300 blocchi quindi 282 su 841.300 in 14 anni di storia questo fa capire quanto è raro questo evento è l'equivalente appunto di vincere a una piccola lotteria detto ciò come cerco di ormai divulgare da diverso tempo questo settore si è espanso un bel po' e al di là di quello che è il faro del settore ossia Bitcoin che rappresenta una nuova forma di moneta è nato tutta una industria attorno tutto un settore che vede in primis nell'ottica di programmazione e software il rappresentante in Ethereum al di là del fatto che adesso come sappiamo anche su Bitcoin stanno nascendo delle soluzioni di programmabilità ma lo standard è dettato da Ethereum e come vedremo si sta diffondendo sempre di più questo ha portato a parlare spesso nel tempo di Bitcoin e Alcoin termine che come ho spiegato in un video che vi linko se non l'avete visto e vi consiglio di guardare è un termine che ad oggi ha meno senso anche perché nasceva quando la maggior parte delle alternative a Bitcoin volevano essere altrettanto una forma di moneta in questo caso invece Ethereum nasce per far altro è una piattaforma di sviluppo che vuole avere nella decentralizzazione la possibilità però di sviluppare e di eseguire qualsiasi tipologia di programmi che chiamiamo oggi smart contract quindi una serie di smart contract che svolgono delle operazioni quindi creano delle applicazioni praticamente decentralizzate in questo momento ci sono dei ragionamenti per cui alcuni analisti vedono il formarsi di una possibile alt season a partire dal fatto che Ethereum sta facendo vedere un insolito livello di transazioni e di operatività segnalando molto probabilmente quello che è il bottom di un mercato che potrebbe ripartire sono parzialmente d'accordo ma anche parzialmente in disaccordo con questa analisi perché ovviamente è un'analisi oggettiva quindi è vero basta vedere quello che è il G-Way siamo ai minimi storici costa davvero poco soprattutto nel weekend fare operazioni su Ethereum nonostante l'alto prezzo di Ether comunque per fare operazioni e il costo di una transazione si è abbassato attorno al dollaro su layer 1 che è davvero economico rispetto all'ultimo periodo ma questo che è un dato oggettivo secondo me fa fatica poi ad unirsi con quello che potrebbe essere una lettura di mercato a partire dal fatto che uno dei motivi per cui si è abbassato tanto il costo su layer 1 è perché c'è una grande diffusione di layer 2 e sempre di più soprattutto con Denkun l'operatività si è spostata su layer 2 e quindi abbassandone l'utilizzo su layer di base e poi anche perché ci sono comunque delle alternative che stanno facendo vedere dei volumi magari portati da speculazione meme coin e cose del genere ma in passato soprattutto nei cicli precedenti se penso al 2017 non c'era alternativa ad Ethereum e non c'era alternativa all'ayer 1 di Ethereum nel 2020 idem quando partì la DeFi Summer appunto nell'estate a seguito dell'advent di Bitcoin esistevano applicazioni smart contract solamente su Ethereum non c'era Solana non c'erano alternative c'era qualcosina come Cosmos Cardano e l'altro ma ancora non avevano uno sviluppo di applicazioni davvero utilizzate erano semplicemente blockchain dove appunto si scambiava solamente la moneta nativa della rete in questo caso invece comincia ad esserci un'alternativa è difficile quindi valutare in questi termini come se questo potesse essere l'inizio per una possibile alt season in ogni caso abbiamo visto un rialzo nel weekend molto interessante per layer 2 e monete di governance legate a quelle layer 2 come esempio OP di Optimism ARB e Polygon che hanno visto dei rialzi molto interessanti e anche Ether ha visto uno spike che però è già stato perso nella giornata di oggi la cosa interessante è che visto il ribasso che c'è sul G-Way si è tornati a vedere un Ether in inflazione cosa che non si vedeva ormai da mesi infatti gli Ether bruciati da quando è stato immesso il Barn e poi a seguito è arrivato anche il Merge sono stati in 997 giorni più di 4 milioni 4.281.000 Ether bruciati in fee e in generale dal Merge in poi possiamo vedere che il rate di inflazione è negativo quindi meno 0.22% è un asset che è andato in deflazione ma questo non negli ultimi 30 giorni dove la supply è aumentata di 17.421 Ether che cosa vuol dire? che Ether con i suoi circa 120 milioni era in tendenza negativa stava andando verso i 120 milioni netti appunto o addirittura al di sotto in questo mese invece è stato emesso più di quanto è stato bruciato riportando la supply lievamente in crescita parliamo comunque di un asset dall'inflazione davvero ridicola anche in questo modo perché parliamo di 0.17% se paragonato ad esempio a Bitcoin che è l'asset più scarso al mondo se la consideriamo la moneta più scarsa al mondo anche paragonandolo a altre cose come l'oro non c'è paragone Bitcoin vede l'1.4% comunque se prendiamo l'ultima settimana va addirittura a dimezzare perché dopo l'alving diventa lo 0.83% Ether in questa settimana che è stato molto basso comunque ha la metà dell'inflazione di Bitcoin ma non ha un massimale questa cosa di non avere un massimale in realtà è sensata in questo contesto dove tendenzialmente come stiamo vedendo Ether non tende a salire ma più viene utilizzato e più tende a diminuire comunque è interessante analizzare l'andamento in questi termini soprattutto post Dancun anche qui parliamo comunque di una scarsità assoluta perché 120 milioni per un asset utilizzato come quello di Ether su layer 1 e su layer 2 è una scarsità molto molto importante sono questi i dati da analizzare per il lungo termine inoltre ci sono delle notizie hanno suscitato un pochino di discussioni ma secondo me sono delle notizie è in particolare questa un endorsement davvero interessante c'è Google che rilascia il suo portale chiamato Google Cloud Web3 dove il 25 aprile mostra una piattaforma che possiamo andare a vedere perché è online trovate il link direttamente in descrizione come sempre come tutte le cose che vi faccio vedere durante il Crypto Monday potete trovare appunto della documentazione a supporto delle varie reti e soprattutto a supporto dei vari nodi a sostegno di queste reti come ad esempio in primis reti e VM come un dataset su Ethereum su Arbitrum, su Avalance, su Kronos su le varie testnet in più c'è anche una sezione dedicata alle Fawcett quindi tramite Google adesso si possono ricevere Ether su Olski e Sepolia con il proprio wallet questa cosa è davvero sbalorditiva per me perché vedere un servizio Google che ci fa da Fawcett su Ethereum e sulle testnet di Ethereum pensato qualche anno fa quando questo settore era considerato un qualcosa di inutile o che non avrebbe mai raggiunto un certo tipo di diffusione vedere che c'è adesso un servizio Google che fa da Fawcett sulle testnet di Ethereum ci fa capire anche tante cose ci fa capire di quanto sia differente ad esempio dalla narrativa che ha preso Bitcoin ed è per questo che vorrei calmare un pochino la discussione che è avvenuta anche perché questo annuncio è stato criticato da molti sostenitori di Bitcoin io mi ritengo uno dei più grandi sostenitori di Bitcoin soprattutto in Italia ma al contempo voglio rinnovare il ragionamento per cui bisogna fare una grande distinzione che è sempre più netta tra lo scopo che ha Bitcoin che è quello di una moneta alternativa alle monete fiat e quello che invece è un ecosistema come quello di Ethereum che ha lo scopo di essere uno strumento una piattaforma per sviluppatori con il quale si possono eseguire delle applicazioni decentralizzate più o meno decentralizzate ma comunque con l'idea di poter sviluppare qualsiasi tipo di soluzione e innovazione questi sono due approcci completamente diversi e lo si vede anche dal supporto che stiamo vedendo in queste cose e dalla legittimità che prendono questi ecosistemi grazie a queste soluzioni c'è anche una sezione di learn dove si possono imparare ad esempio come sviluppare un NFT che ancora una volta è uno strumento è una tecnologia non va visto solamente in ambito speculativo l'NFT è un concetto come ho detto anche in passato che è entrato tecnologicamente nel nostro mondo e rimarrà l'idea di avere un asset non fungibile unico dove abbiamo la sicurezza che questo non possa essere riproducibile non possa essere duplicabile che è molto diverso da un asset fungibile come ad esempio bitcoin e tanti altri sezioni learn c'è pure una sezione startup sostenuto anche dal mondo Aptos su Web3 inoltre c'è tutta una sezione dedicata alla documentazione a come creare dei nodi anche nodi ethereum ma anche nodi bitcoin perché comunque c'è nella documentazione anche con i partner products bitcoin data set bitcoin cash bitcoin full node e si può vedere appunto dalla documentazione come poter ottenere un nodo un full node bitcoin in questo caso con supporto anche ordinals quindi diciamo un supporto che poi sappiamo essere opzionale su bitcoin il periodo passata comunque la sbornia dai festeggiamenti per l'alving non è dei migliori infatti arrivano delle regolamentazioni molto serrate su alcune soluzioni che costringono altre soluzioni a cambiare area infatti mi riferisco a Phoenix e Wasabi che sono due soluzioni di wallet che lasciano gli Stati Uniti difficile capire no? difficile inquadrare questa definizione in quanto come si fa una soluzione online come fa a lasciare geograficamente un'area sono situazioni che riguardano solamente l'aspetto burocratico che sta condizionando parecchio questo momento in quanto ci sono degli attacchi soprattutto da parte della SEC verso ConsenSys che tra l'altro ha annunciato la scorsa settimana di far causa e di difendersi perché a detta di ConsenSys Ether non è una security ma è da considerare una commodity quindi non ci sono le condizioni per la Security Exchange Commission di ritenere autorità di avere autorità su quell'asset e in più gli attacchi verso Samurai che è un wallet atto alla privacy orientato alla privacy per Bitcoin per questo motivo Phoenix Wallet e Wasabi che hanno lo stesso scopo lasciano gli Stati Uniti annunciano che visto i dubbi che hanno e la paura diciamolo pure di ricadere sotto problematiche portate dalle autorità degli Stati Uniti decidono di chiudere il supporto rimuovere l'applicazione dagli stores statunitensi e consigliare a tutti i residenti di chiudere i propri canali anche il Lightning Network e drenare i propri wallet anche perché il rischio si potrebbe espandere a tutti i sistemi self-custodial e ai vari provider compresi i servizi provider di Lightning Network e i no di Lightning che potrebbero essere considerati dei money services businesses e quindi essere regolati come servizi finanziari questo è un problema e potrebbe essere un problema per la diffusione di queste soluzioni sappiamo di come la burocrazia in realtà che tante volte viene proclamata come a difesa del risparmiatore a difesa del cliente in realtà è sempre stato il più grande freno verso la tecnologia questo lo dico chiaro e tondo la maggior parte delle volte in cui qualche cosa è andata male in questo settore la burocrazia di certo non ha permesso di difendersi invece ha rallentato spesso e volentieri soluzioni tecnologiche e anche tutto quello che potrebbe accadere sia lato Ethereum se dovesse ricadere come security e quindi frenata dalla SEC anche nell'approvazione degli ETF e tutto quello che potrebbe avvenire nella diffusione di Bitcoin a livello di Lightning Network sicuramente non è una cosa positiva sicuramente non vedo come possa anche essere una difesa verso l'investitore verso il consumatore magari se la pensate in modo differente potete anche dirmi la vostra basti pensare a come FTX fosse come intermediario intermediario che aveva probabilmente più licenze per operare negli Stati Uniti e poi quello che è successo ma all'esempio non si dovrebbe limitare solamente a operatori del settore basterebbe pensare a quello che è successo nella storia con le varie banche private e quello che può fare ad esempio una banca centrale dove le regole effettivamente vengono fatte per quel tipo di struttura ci sono però anche buoni segnali di ripresa basti pensare che stanno tornando delle campagne molto forti ad esempio su Crypto.com c'è un nuovo ambassador questo è Eminem che rilascia un video su Twitter sponsorizzato Crypto.com quindi prende il posto di Mad Demon e c'è nella Staple Arena la Crypto.com Marina di Los Angeles si fa vedere un video con un fighter sponsorizzato Crypto.com ricordiamo di come il motto Fortune favors the brave non sia stato uno slogan di grande successo per quanto riguarda Mad Demon e Crypto.com che ai tempi era una delle aziende che cresceva di più poi c'è stato tutto il disastro portato appunto da Terra Luna e poi FTX eccetera che ha portato dei problemi anche sull'azienda che è stata costretta a licenziare tantissimo personale e interrompere la sua crescita proprio perché anche tutto il settore è andato calando in interesse però sembra che comunque sia ripartendo qualcosa soprattutto con queste nuove collaborazioni tra l'altro c'è un'altra nota curiosa che arriva per chi avesse ordinato il Saga Phone 2 quindi il chapter 2 per quanto riguarda Solana la curiosità riguarda sempre gli airdrop sapete come il prima la prima versione di Saga sia stata ripagata completamente anzi chi avesse preso il primo Saga con gli airdrop ricevuti è andato in profitto probabilmente e sta succedendo la stessa cosa per il secondo per la seconda edizione chi ha preordinato il Saga 2 spendendo 450 dollari alla cieca perché ancora il telefono non è stato spedito non si sanno neanche le specifiche di questo nuovo Saga che inizierà ad essere distribuito nel 2025 questo dice l'azienda in ogni caso a fronte di 450 dollari di pre-order sono stati ricevuti da chi ha comprato con l'address pagando tramite wallet non custodial ha ricevuto due airdrop un Mav e un altro manechi sono due Memecoin che al picco sono valsi 330 dollari più 129 dollari quindi superando il costo della pre-sale sul singolo telefono queste sono storie che accadono praticamente solamente in questo settore tornando a parlare di cose un pochino più serie vi lascio con un paio di approfondimenti in chiusura di questo Crypto Monday cose che vi consiglio di approfondire perché il trend dei real world asset sarà il movente e il grande trend di questo ciclo questo stavolta mi sento di dirlo con abbastanza confidenza era qualcosa che era stato previsto anche altre volte ma credo che stavolta possa essere davvero diverso in quanto reduce dal token 2049 di Dubai ho notato che quasi tutti parlavano di questo discorso e l'interesse concreto di fondi come quello di BlackRock fanno davvero la differenza c'è questo approfondimento che vi lascio in descrizione che parla proprio della rilevanza nell'avere asset on-chain nella tokenizzazione soprattutto in questa fase la ricerca è stata fatta da BCG e ADDX di cui potete trovare riferimenti e fa vedere di come il calo di tutto il settore e il Crypto Winter sia stato ciclico ma partito appunto dal crash su Terra Luna e di come la DeFi ne abbia risentito infatti c'è stato un drop del 67% in tutto il settore quindi la TVL è diminuita da 257 miliardi a 86 miliardi solamente in pochi mesi qui vediamo dal 9 novembre al 19 giugno dal 9 novembre 2021 al 19 giugno 2022 un calo di 171 miliardi che è stato accusato da tutta la DeFi e tutti i progetti in DeFi portando quindi anche un drop poi nei rispettivi controvalori delle singole asset soprattutto quelli legati magari a governance che hanno visto un ribasso importante davvero dopo questi eventi il settore ne ha risentito parecchio piccoli investitori non rendendosi conto della finestra più allargata hanno magari visto le colpe del singolo protocollo del singolo evento è accaduto anche sul progetto che ho cofondato parlo di Metalswap che ha visto questo ribasso eclatante anche perché comunque Metalswap è stato tra i primi a proporre la narrativa real world asset ancora prima che il real world asset fosse un termine portando quindi un derivato che potesse operare direttamente su asset reali il tutto è stato interrotto dall'ultimo bear market dal crash di Terra Luna che poi ha portato un crash eclatante che viene spiegato in questi numeri comunque i protocolli i progetti che sono sopravvissuti a quella fase che sono orientati in questa direzione hanno un enorme potenziale oltre a tutti coloro che in generale stanno puntando su questo settore vi consiglio di andare a approfondire su questa ricerca perché spiega anche perché la tokenizzazione di asset reale è un bisogno che si manifesterà in questo prossimo ciclo con molta probabilità a partire da equity fondi di investimento obbligazioni e altri tipi di asset che sono ovviamente i primi per cui sarà possibile farlo visto che sono degli asset non fisici diciamo ma anche tutta la parte di asset fisici ovviamente rappresenta un'enorme opportunità di mercato da real estate a commodity chi potrebbe farlo quindi con l'ingresso di grandi banche di investimento quindi che possono fare un'emissione regolamentata e poi al come possono essere tokenizzati e a quel punto una volta che avverrà questo flusso di tokenizzazione ci sarà tutta un'esigenza di mercato per rendere appunto questi mercati più efficienti qui abbiamo i vari player a livello anche di blockchain che possono approfittare di questa tokenizzazione ovviamente in primis c'è sempre ethereum e mi sembra evidente accompagnata magari anche da qualche altra blockchain privata perché ha senso in questo contesto le meccaniche e i benefit di una tokenizzazione di asset adesso vado veloce perché questo report è davvero corposo come funziona la meccanica anche basata su quelli che sono i custodian che poi vanno effettivamente ad avere l'asset fisico che viene tokenizzato ma basti pensare a quello che ha fatto tether con usdt che è stato un predecessore perché usdt è il primo real world asset se vogliamo del settore con dollari tra virgolette fisici custoditi da tether e l'emissione di un token che li rappresenta che poi tramite la licenza di poterlo fare da parte dell'issure si diffonde su mercati che diventano anche mercati secondari sui quali diverse applicazioni decentralizzate possono poi operare avere dei ritorni e andare ad efficientare tramite strategie di yield tutto il mercato il prossimo trend sarà questo quello di unire appunto il mondo della blockchain che finora è stato abbastanza astratto parlo di tutto ciò che non era bitcoin con un qualcosa di molto più concreto ossia tutto ciò che si è mosso finora solamente sulla finanza tradizionale buttate un occhio appunto a questo documento qui poi ci sono tutti tutte le analisi che riguardano invece la regolamentazione già attiva a livello di tokenizzazione fino a questo momento e la landscape nei vari paesi dove ci sono paesi molto più avanti rispetto ad altri pensando ad esempio a Singapore dove security token sono regolati come le security tradizionali e gli utility token e i token di pagamento non cadono dentro una certa tipologia di legislazione e poi appunto invece in Europa dove si presenta adesso MICA che si prepara alla regolamentazione e i vari token e poi abbiamo paesi come appunto la Svizzera dove gli utility token che non rappresentano che non rappresentano alcun tipo di claim nei confronti all'isher possono essere creati in modo valido e abbastanza semplice e i security token sono già regolati quindi abbiamo tutta una sfilza di regolamentazioni che si stanno preparando e preparano l'infrastruttura appunto per il prossimo trend che è proprio quello della tokenizzazione c'è tutto un discorso che poi si svilupperà anche per quanto riguarda gli stakeholder e i vari sviluppatori in questo senso ovviamente Metaswap continua a sviluppare tra l'altro ho presentato personalmente a ETH Dubai un demo pitch per quanto riguarda Metaswap che ha riscontrato diversi interessi proprio per la natura e l'idea sviluppata che è stata un precursore di quello che sta arrivando probabilmente anche con una tempistica troppo anticipando un po' troppo quello che tuttora è ancora un mercato molto speculativo e poco concreto però pian piano queste cose si stanno sviluppando e stanno arrivando ad essere pochino più solide in ogni caso anche qui vi rilascio a due interessanti approfondimenti rilasciati su blog di Metaswap e dalle ricerche fatte tramite DeFi Foundation uno è un approfondimento di come funzionano ad oggi i derivati sul mondo blockchain sul mondo cripto principalmente la differenza che c'è tra Metaswap che non ha funding rate e perpetual con funding rate e l'opportunità che si creano con questa differenza tra l'altro è attiva una Metaswap competition swap competition con dei premi in OP che vi ho menzionato già la settimana scorsa basta andare sull'applicazione di Metaswap per poter aprire posizioni e poter vincere dei premi da distribuire tramite il grant ottenuto da Optimism e poi un approfondimento che vede la differenza di mercato su l'etf dell'oro e quello che ha portato nella storia al mercato e l'etf su bitcoin e le opportunità che ci sono visto il potenziale long term degli effetti che può avere l'etf su appunto bitcoin vi consiglio di vedere questi approfondimenti perché rimangono comunque dei approfondimenti fondamentali gratuiti rilasciati costantemente su blog Metaswap per questa settimana è tutto noi ci troviamo lunedì prossimo mercoledì 1 maggio ci sarà una pausa per quanto riguarda le live su coinsquare che riprenderanno la settimana successiva vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione e buona settimana a tutti